Mamme senza lavoro, figli senza futuro, uno striscione che raccoglie tutto quello che è il cuore e la vertenza delle monetics. Io ringrazio il gruppo dei lavoratori, rappresentanti dell'RSU di maggioranza, per essere oggi ospiti negli studi di Yant. L'informazione non ha senso se non dà voce a coloro che in questo momento sono in difficoltà. Quelli che ieri potevano essere altre persone, Serena l'ha detto già, l'abbiamo scritto su Yant, domani possiamo essere noi. Quindi essere vicino a questa difficile situazione è secondo me molto importante. Serena Fanini, RSU aziendale, incontro in Confindustria, nei giorni scorsi che cosa è accaduto? Di nuovo diciamo che c'è stato un aspetto nuovo che ha rafforzato un po' il piano A, che è quello sempre stato dell'UGL e quindi della maggioranza dell'RSU, che è quello dell'occupazione. Per cui garantire il lavoro e una ripresa produttiva per il futuro, per il futuro prossimo. Quest'azienda se ne va perché ha interessi produttivi da un'altra parte, l'abbiamo già detto più volte, in Asia. Quindi ci sentivamo un attimino il dovere e anche il diritto come lavoratori di sottolineare quale fosse effettivamente la reale intenzione di questa azienda. Se l'intenzione fosse quella di portare via i macchinari, quindi l'intelligenza che abbiamo nel territorio scolano, nel nostro stabilimento e portarla in paesi dove il lavoro costa molto poco. Oppure se fosse realmente intenzionata a vendere ad un futuro imprenditore. Per cui l'abbiamo messo un po' spalla al muro nell'incontro di Assindustria di ieri, chiedendo una garanzia che fosse una clausola rescissoria da mettere all'interno di un eventuale accordo, che si possa sottoscrivere a livello sindacale, per garantire la permanenza dei macchinari all'interno di quello stabilimento. Perché quello stabilimento senza macchinari vale zero, è cemento armato. Quindi nessun imprenditore potrebbe mai affacciarsi ovviamente per l'acquisto. Tra l'altro quelli sono dei macchinari che hanno un valore unico, che non è uguagliabile, perché sono dei macchinari che creano un processo continuo. Ossia la sacca dall'inizio alla fine, fino a inserirla all'interno del blister e a sterilizzarla come prodotto finito. Questo ci rende unici, perché nelle altre parti del mondo la sacca assolutamente può essere contaminata, in quanto non viene sterilizzata come prodotto finito. E ci sono appunto le famose morte, morti per sacche contaminate. Tu mi hai detto, nei giorni scorsi, garantire alla sanità italiana, quindi anche a tutti gli italiani che ci stanno seguendo, questo processo produttivo ad Ascoli significa garantire anche la qualità della sanità italiana. Ma sicuramente, perché tutti noi abbiamo parenti, famiglie, amici. Un brutto episodio nella vita può capitare a tutti. Sicuramente credo sia diverso andare in un ospedale italiano e avere una sacca prodotta in Ascoli Piceno, senza nulla togliere agli altri, ma una sacca prodotta in Asia, o prodotta in Cina, o prodotta in altre parti, non ha la stessa qualità. E questo garantisce la vita alle persone, la sopravvivenza. Credo che sia fantascientifico, l'abbiamo anche detto all'azienda, all'Emonetics, il fatto che si possa portare via un prodotto etico che salva la vita alle persone e farlo in paesi dove invece si sfrutta il lavoro, quindi si svenano le persone. Abbiamo mandato un altro appello all'azienda, che è quello che, al momento in cui non andassero ad accettare questa clausola rescissoria, che quindi annullerebbe, nel momento in cui portano via i macchinari, dopo l'accordo, annullerebbe qualsiasi accordo, quindi qualsiasi effetto giuridico, la risposta dell'azienda purtroppo è stata, secondo me, vaga e ci ha fatto comunque pensare che le nostre paure non sono infondate. Perché hanno risposto che quei macchinari non possono essere lì ad ammuffirsi, sì per qualche mese potrebbero rimanere nascoli, ma poi per il resto non ne hanno deciso la destinazione. Questo si contraddice assolutamente con la loro scrittura, perché hanno messo nero su bianco al MISE, al Ministero dell'Economia a Roma, che garantiscono la vendita, anzi creeranno una corsia preferenziale per un imprenditore che vorrà arrivare e salvare i nostri posti di lavoro. Si contraddice perché? Perché al momento in cui dicono qualche mese, beh, l'imprenditore potrebbe arrivare dopo sei mesi e quello stabilimento potrebbe essere vuoto senza macchinari. Il Ministero della Sanità, dell'Economia, tutte le istituzioni devono adesso attivarsi. Abbiamo chiesto quindi all'Onorevole Agostini, che è il parlamentare di zona, di fare un'interpellanza, aprire un'interpellanza parlamentare per mettere a spalle al muro le Monetics e chiedere le loro intenzioni reali sulla gestione di questi macchinari. Altrimenti il Ministro della Sanità deve impegnarsi con noi nel dire che le Monetics non può produrre in Asia o in altri paesi a costo zero e tornare a vendere il prodotto in Italia. Cordata, cordata sì, cordata no. Domenico D'Antonio, anche tu fai parte dell'RSU di maggioranza, c'è questa cordata, ci sono degli imprenditori disposti a rilevare il sito a Scolano? Sì, noi dell'RSU abbiamo preso contatto con degli imprenditori e questi ci hanno assicurato il proseguo della riproduzione. quindi sappiamo che ci sono gli imprenditori, sappiamo che, anzi, si sono anche impegnati a mettere il prezzo del prodotto finito anche in Italia allo stesso prezzo dell'Asia o dei altri paesi e quindi, cioè, perché può essere abbassato i costi, i costi possono essere abbassati e questo ci lascia speranza, però il problema è quello che prima diceva la mia collega dell'RSU cioè, le Monetics vuole vendere sul serio o no? cioè, secondo noi, questi stanno giocando un po' su questo fatto cioè, dicono a voce che vogliono vendere. Poi, in realtà, non è vero. Quindi, noi ribadiamo ancora una volta, questo l'abbiamo sempre detto abbiamo fatto tante vertenze quindi, gli abbiamo fatto denunce per per contratti non rispettati, per accordi non fatti, eccetera ecco, loro ci hanno sempre chiesto il ritiro di queste vertenze che sono state fatte perché loro hanno chiuso, però ecco, in seguito alla giusura dello stabilimento sono partite le azioni giudisiarie noi, agli imprenditori che vogliono rilevare il sito e vogliono produrre, vogliono continuare l'attività produttiva promettiamo il ritiro di tutte queste vertenze le ritiriamo in cambio del lavoro ecco, quindi chi compra non deve temere niente ecco com'è, questo vorrei sottolineare Tony Petrucci, da 13 anni nel gruppo Emonetics hai speso il tuo tempo, la tua professionalità, le tue capacità e ci sono tantissime intelligenze le Emonetics se ne contano più di 185 voi siete anche disposti a fare in prima persona un'assunzione di responsabilità anche di co-gestione quindi l'appello che fate agli eventuali imprenditori è noi vi siamo vicini, siamo disposti ad offrire le nostre professionalità Sì, assolutamente, anche perché in questi 13 anni per quello che mi riguarda e per gli altri miei colleghi abbiamo fatto sacrifici economici veramente grandi perché ricordo che siamo stati sotto un contratto 6x6 ritribuito e contribuito al 90%, quindi part time abbiamo avuto un contratto metalmeccanico quando il nostro prodotto è chiaro che sia farmaceutico e chimico farmaceutico non abbiamo avuto mai la mensa aziendale a differenza di altri nostri colleghi non abbiamo avuto mai premi per la produzione diciamo come tutti hanno in genere tutte le ditte si ha e quindi siamo stati trattati in maniera molto negativa per quello che ci riguarda però noi abbiamo sempre lavorato abbiamo sempre fatto il nostro lavoro con professionalità, con serietà sempre nel rispetto soprattutto dell'azienda e adesso non possiamo permettere questa chiusura perché non ci sta, non ci sta proprio E non ci stanno anche le lavoratrici oggi ne abbiamo alcune, chiaramente in rappresentanza dei tanti se puoi magari passare il microfono Toni, anche voi mi dicevate da 14-15 anni nell'azienda Emonetics mamme senza lavoro, figli senza futuro angoscia, dolore, rabbia ma anche tanto senso di responsabilità e beh sì, perché comunque come hai detto tu siamo tutte mamme e abbiamo dei figli a cui dobbiamo pensare al loro futuro e ora, andando avanti, guardando avanti il futuro non lo vediamo perché comunque sia i soldi cominciano a scarseggiare il lavoro non ce n'è e siamo anche a casa con chi ha il compagno che non lavora perché purtroppo questa è un'altra situazione reale e chi invece vuole costruirsi una casa non può costruirsi una casa perché non ha la possibilità e siamo messi un po' tutti in mezzo a un mare di guai quello che ci ha dato Emonetics è un mare di guai e noi chiediamo il lavoro, chiediamo la speranza di poter andare avanti e soprattutto la speranza per un futuro migliore e soprattutto per i nostri cuccioli che ci aspettano a casa Dunque, torniamo con il microfono a Serena in chiusura, un appello voi volevate farlo dicevamo anche in precedenza agli ascolani ma in generale a tutti i lavoratori perché non restino indifferente partecipino ai cortei il 3 ottobre è previsto un nuovo incontro la scadenza però, ultimatum, è del 5 novembre e si avvicina velocemente voi volevate fare anche un appello ai vostri colleghi dobbiamo essere uniti? Ma sì, ai colleghi perché ad oggi abbiamo un po' tra virgolette cercato di smascherare quella che è la situazione aziendale perché se fosse vero che abbiamo capito bene che i macchinari vanno via non c'è più lavoro per nessuno né per 20, né per 30, né per 40 per cui sarebbe impensabile non condividere una strategia di questo tipo che va a tutela del lavoro perché lì la fabbrica è giovane l'80% non sono assolutamente vicini alla pensione quindi non sarebbe più comprensibile una non unità dei lavoratori chiediamo quindi questo appello diamo questo appello ai lavoratori ai cittadini ma soprattutto alle istituzioni che dovranno muoversi perché noi con questa lotta fino a quando avremo energie da spendere per noi la scadenza non è il 5 novembre le monetics per noi non potrà più affacciarsi se le istituzioni sono istituzioni serie dalla finestra e riportare un prodotto fatto fuori all'estero in Italia questo è quello che è la nostra battaglia utilizzeremo tutti i canali tutti i media per poter perseguire questo obiettivo quindi devono mettersi in testa nei prossimi incontri che o debbono pagare sia il danno della chiusura che la beffa che è quella di portare via un bene italiano i macchinari che sono stati tra l'altro finanziati con sovvenzioni statali italiane oppure debbono permettere all'imprenditore che vuole affacciarsi di arrivare perché effettivamente ci può essere un acquisto poi mandiamo l'ultimo messaggio che è quello invece che l'imprenditore che abbiamo ascoltato noi ultimamente in questi ultimi giorni veramente intenzionato ha fatto all'Emonetics e l'abbiamo riferito all'Emonetics in sede di Assindustria spero che gli avvocati siano tanto bravi dell'Emonetics da riferire a chi decide al capo dell'Emonetics questa situazione quell'imprenditore lancia l'appello che se l'Emonetics sarà tanto brava da vendere allo stabilimento questo imprenditore rilevando l'attività produttiva sarà altrettanto avrà altrettanto buon senso di vendere questo prodotto fatto in Ascoli Piceno all'Emonetics allo stesso prezzo che se l'avessero prodotto in Asia per cui siamo convinti che lottare tutti insieme ci fa solo onore ci dà forza e in fondo chi smette di lottare fin dall'inizio ha già perso in partenza grazie a Serena Fanini da Antonio Domenico a Tony Petrucci questi lavoratori che sono stati ospiti di Yant salutiamo ovviamente gli altri e Yant sarà sempre a vostra disposizione e chiaramente questo è l'invito che facciamo anche ai rappresentanti Emonetics se volessero replicare a quanto è stato detto volessero addirittura venire qui in redazione per un incontro le nostre telecamere sono a loro disposizione grazie grazie a voi e buona fortuna e bocca al lupo grazie